Ok, ci siamo? Va bene. Nome! Sveva! Sveva! Chi sei Sveva? Lei è la mascot della nostra azienda, la Mauri Pet. Perché siete insieme? Cosa volete raccontarci? Sveva! Vogliamo raccontare un po' la storia della nostra azienda, poi periodicamente facciamo dei prodotti nuovi. Grazie a Sveva, la nostra saggiatrice ufficiale, e tutto quello che viene presentato prima, anche qui come è stato da una serie di allevatori, ma anche da Sveva, e dai che dovete dare il voto 10 di Polino Blu, a tutti i prodotti che escono della Mauri Pet. Come si chiamerà la rubrica? Sveva! Sveva! Ti sveva! E quali saranno i prodotti che vorrete presentarci? Allora, inizieremo dalle linee di mancine secco per cani, ormai ne abbiamo tante, dalle più alte qualità che si possono provare sul mercato, come la linea Punta e Oceano della Superiore Line. Grape Free, ora si faccina per l'acqua e Selection. Dopo i mangini presenteremo, man mano, tutti i nostri trizze. Abbiamo presentato a Chiamolimpe Agrafi, che era al più importante a livello internazionale, la nostra linea di biscotti nuovi superpremi a tre gusti, al farro. Abbiamo presentato i nuovi premiati artigianali, sempre a tre gusti, a base di maiale, e poi andremo a presentare tutti i nostri snack. Benissimo, grazie allora, alla prossima! Saluta! Ciao! Ciao!